O potentissima Avvocata e Protettrice nostra, Maria Annunziata, da questa terra di miseria e di piatto, vi dirigiamo le nostre lacrime, le nostre subite, i nostri clamori, nella dolce speranza di sperimentarvi ancora una volta, madre benigna e piedosa, noi viventi sempre nel padroncino vostro, non abbiamo cessato mai di invocarvi, salvatrice di questa città, di questo popolo, e nei nostri pubblici e privati bisogni, pronta soccorritrice. Il nome vostro, Maria, profondamente scolpito nelle nostre menti e nei nostri cuori, ci è risuonato sempre sulle labbra, perché è il nome della nostra mamma di letto. Maria, abbiamo sempre gridato nei trevi momenti della scrittura. A voi, Maria, pensiamo come alla più genera delle madri, e a voi ci rivolgiamo come a colei che è sola con tenerci grazie da Dio. Vogliate, dunque, vi preghiamo, obilissima Maria, prendere protezione dell'anima e del corpo nostro, dei nostri parenti, dei nostri amici e nemici, e di tutte le cose nostre. In voi, riponiamo tutte le nostre speranze di ottenere da Dio quanto chiediamo, specialmente la grazia per cui ora, in particolar modo, vi soppughiamo. No, oh Maria, non vi denegate, venite in nostro soccorso, esauditeci, e noi sperimentiamo la tenerezza del vostro cuore materno, i frutti del vostro possente patrugito. Benediremo e canteremo sempre il vostro ebosissimo nome, nel tempo e nell'eternità. Amen. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.